Un ponte dell'Immacolata da leccarsi i baffi, Chocolate. Il cibo degli idee trasforma Napoli in un grande salotto goloso in cui assaggiare le praline dei più raffinati maestri cioccolatieri. Fondente, bianco al latte, con le nocciole o senza, il cioccolato, che delizia. Anche quest'anno la Fiera delle Golosità ha accolto i suoi visitatori con numerosi appuntamenti. Choco Show, il mercatino più goloso con le maggiori firme del panorama dolciario nazionale, un ricco calendario di degustazioni guidate per i palati più esigenti e tanto altro ancora. L'Italia del cioccolato, firmata dalla Scuola Perugina, realizzata dall'artista Andrea Gasparri con 14 tonnellate di cioccolato fondente fra le attrazioni che più hanno conquistato il pubblico della Kermesso. A rendere ancora più dolce questo viaggio nell'italianità, i cioccolatini realizzati live dai maestri perugini, tutti da assaggiare e gustare appena fatti. Sua maestà la cioccolata diventa protagonista anche di un centro estetico, con la Cioco Spa, un tempio del benessere con cosmetici a base di cacao, e dopo spaccio agli appetitosi stand delle grandi aziende italiane. Non manca il più classico degli assaggi, sempre gradito, tante buone fette di fresco pane e cioccolato da gustare comodamente sull'esdraio dell'area Spalbiccio. Un aperitivo pre-natalizio tutto da gustare.